Sono certo che i due interlocutori abbiano chiarito in quale contesto ci stiamo muovendo e soprattutto chiarito le connessioni tra le tipologie, che io le chiamo così, dei sistemi di controllo che sono necessarie per la pubblica amministrazione. Vorrei chiedere al dottor Ferrante, che però io forse ho interrotto anche in alcune considerazioni che stava facendo, casomai le può riprendere senz'altro, ma questo tassello del controllo strategico, con tutte le difficoltà che sono comuni abbiamo visto alle pubbliche amministrazioni, poi la provincia mi pare che lo stia creando il tassello del controllo strategico, perché ci può dire che cosa sta, il nucleo di valutazione sta per essere insediato o addirittura insediato, quali sono le scelte che ha fatte la provincia? Allora l'attuale situazione nell'amministrazione provinciale di Cagliari è questa, innanzitutto il nucleo di valutazione, mi riferisco alla valutazione della dirigenza, è partito già dal 2001, il controllo di gestione è partito nel 2002, quindi siamo oramai, siamo perfettamente a regime eccetera, il controllo strategico è stata nominata alla commissione nel settembre, fine settembre del 2004 e sta entrando proprio in questi giorni a regime perché c'è proprio il bilancio in fase anzi di approvazione, è stato già approvato mi pare di ricordare qualche giorno fa e quindi entra proprio in funzione in questo momento da noi il controllo strategico, quindi adesso si dovrà, si sta confrontando con l'organo politico, poi verrà a confrontarsi con il direttore generale per la formazione del piano esecutivo di gestione. Posso chiedere quali sono state le scelte dell'amministrazione sulla composizione, perché questa è una legge proprio è una questione che lascia alle singole amministrazioni, perché è interessante sapere il dentro e il fuori come ha, ecco questo è l'amministrazione provinciale, io sto sorridendo perché sto pensando controllo strategico questo sconosciuto, come l'evo definito che proprio calza veramente bene, perché era questo sconosciuto anche per noi, quindi nella scelta della composizione della commissione del controllo strategico siamo andati un pochino anche noi, anche se con i piedi di piombo, ma abbiamo pensato che le professionalità più adatte per questo tipo di lavoro fossero dottori commercialisti, non tanto perché il controllo strategico come lei ha definito sconosciuto lo avessimo molto In queste trasmissioni ne abbiamo avuto molti dottori commercialisti, siamo contenti e tra l'altro hanno sempre rimarcato la loro funzione che vogliono avere verso le pubbliche amministrazioni, Ecco noi, prendendo spunto da queste considerazioni abbiamo ritenuto che le professionalità più adatte per esercitare questo tipo di controllo potessero essere i commercialisti, è vero che il commercialista guarda forse più i numeri, perché qui il controllo strategico dei numeri li guarda poco, anzi non li guarda affatto, però è altrettanto, o dovrebbe avere, sono convinto che ce l'abbia, il commercialista, quella forma mentis che più si avvicina al ruolo che noi ritenevamo dovesse svolgere, come ho detto prima nel precedente intervento, il controllo strategico, quindi abbiamo fatto una selezione con un bando, sono arrivati innumerevoli curriculum anche di professionisti commercialisti di un certo livello, anche di una certa anzianità, ecco fra questi abbiamo cercato di selezionare, non era facile perché erano tutti con dei curriculum molto corposi, abbiamo cercato di selezionare tre figure che ritenevamo anche per questione di tempo, perché un commercialista è molto impegnato, quindi ci servivano a noi delle figure professionali che avessero uno certo spessore professionale, ma che avessero anche una piccola disponibilità maggiore per poter frequentare i locali dell'amministrazione provinciale e confrontarsi sia con l'ocono politico che con l'ocono amministrativo. Volevo intervenirsi, poi lo continua perché questa, non voglio dire che sia una polemica, anzi potrebbe essere, loro hanno scelto una certa professionalità, adesso non importa che sia individuati in un ordine, ma come dire, ecco, voglio dire, però questa storia della misurazione sembrerebbe una contraddizione, perché si dice il controllo strategico è qualcosa che va più in là, però poi dobbiamo essere concreti. Allora, lei vuole intervenire su questo? Sarebbe interessante, poi riprende il dottor Ferrante. Io ho avuto un modo di vedere all'opera diverse regioni italiane. Vengo da un'esperienza del controllo e gestione della ASLotto e sono anche nel nucleo di valutazione dell'Ateneo Cagliaritano. Quindi ho la possibilità e la fortuna anche di poter mettere raffronto le varie esperienze e mi rendo conto che sono effettivamente realtà soltanto apparentemente simili, perché ogni azienda, ogni ente pubblico ha fatto sì che il suo controllo strategico e il controllo di gestione avessero delle caratteristiche peculiari e in un certo modo calzate, vestite come un abito sartoriale sull'organizzazione sulla quale devono incentrarsi. Anche la Regione Sardegna ha fatto la scelta di accedere al mercato esterno per reperire le professionalità necessarie per l'attivazione del sistema di controllo. Infatti abbiamo una rete che è composta di circa 10 funzionari dell'ufficio centrale e ben 18 funzionari che fungono da referenti nelle direzioni generali della Regione, che sono appunto 18. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema di controlli vuole essere impiantato in modo decentrato. Abbiamo ritenuto fin dal primo momento di insediamento della Commissione che per poter essere un valido supporto alle decisioni politiche da un lato, alle decisioni direzionali dall'altro lato nei vari livelli di formazione dei piani e dei programmi dell'azienda abbiamo ritenuto necessario far nascere, anzi far crescere meglio, delle specializzazioni da parte di operatori che provengono dal settore privato e che hanno già quindi la professionalità maturata e questa è stata la scelta regionale attraverso la legge regionale 31 e quindi per poter trasformare queste conoscenze trasferendole nell'apparato pubblico. L'apparato regionale come sappiamo è quanto di più complesso ci sia in ambito della pubblica amministrazione nel territorio sardo in quanto la Regione in base alle nuove disposizioni di legge dovrebbe assumere un compito sempre più di pianificazione, di programmazione, di coordinamento degli interventi. Quindi la macchina regionale è una macchina che produce servizi amministrativi volti a coordinare altre azioni amministrative e non da parte di enti locali, da parte di enti strumentali o regionali come si trovano oggi, da parte di aziende USL dislocate nel territorio e quindi da parte degli altri soggetti pubblici. Questo ritengo che sia il senso del controllo strategico della Regione Sardegna, non può prescindere dall'esistenza del controllo nelle pubbliche amministrazioni locali.